La città di Torino è famosa per le belle donne. Che cosa combina la mia sorellina? Uscirò da qui tra circa un'ora. La cena è alle sette. Ma qualcuno è sulle loro tracce. Cosa abbiamo? Un altro corpo. Sembra il nostro uomo. Odia la bellezza. Grazie! Ehi, piazza Vittorio è dall'altra parte. Fermi la macchina! I suoi modi sono brutali. Basta, baci. Non più. Mia sorella è scomparsa. Dovevamo incontrarci nel suo appartamento. I suoi moventi sono contorti. È mia! Si nasconde in mezzo a noi. Adesso, con tutti gli indizi... Come nella maggior parte di questi casi, ci troviamo di fronte a un vero e proprio rituale. Provo a piacere. Un uomo... I miei metodi non seguono le procedure. È a un passo dall'assassino e sempre più vicino... alla follia. È un mostro. Non ne hai idea. Perché non mi dici che cosa succede? Fermo! Aiuto! Dimmi dov'è! A volte bisogna fare quello che va fatto. No! No! No!